ciao a tutti amici di attuto golf da enrico trentin raramente vi capiterà di trovare dei campi da golf completamente piatti e sicuramente vi capiterà di giocare con la palla che non è esattamente in piano ma sarà in pendenza in questo caso abbiamo la pallina che si viene a trovare in salita cosa dobbiamo fare per eseguire dei buoni colpi in salita la prima regola è non contrastare la pendenza dunque dovrete assumere una posizione di fronte alla palla leggermente inclinata verso destra ok dovete metterli sempre in relazione al terreno la seconda cosa da fare è di posizionare più la palla verso il centro destra dei piedi per incontrare la prima e ancora prima dovete cercare di mirare leggermente a destra dell'obiettivo perché la palla tenderà a curvare verso sinistra questo tipo di posizione può aiutare anche coloro che hanno problemi di spostamento del corpo in avanti cioè praticare in questo modo vi aiuterà a mantenere la testa dunque al centro dello swing che al centro della rotazione dietro la pallina proprio come dovrebbe essere dunque consiglio a tutti coloro che hanno problemi di spostamento di praticare in questo modo dunque riepiloghiamo palla più centro destra peso a valle dunque inclinati a destra e mirata a destra dell'obiettivo vi aspetto alla prossima puntata da tutta villa con numero è tutto enrico trentino alla prossima puntata grazie a tutti